No, sono morto, mi arrezzo Sono inseguito da 300... Allora c'è un pulsante Sì, per il problema che è, sono morto ormai, l'ho visto dopo Niente, mi suicido Secondo me, aspetta un sistema per rendere questo gioco più semplice Carichiamo, vediamo che ci carica Ci sei, Rosa? Devo aprire Io ci sono, ma non puoi fare, aspetta Aspetta che, vabbè, no Ma non possiamo fare vite infinite, allora Facciamo vite infinite, dai Sei pazzo? C'è infinite o energia infinita? Aspetta, vediamo, aspetta, vediamo Che cazzo è? Sono uscito No, io farei vite infinite Allora, vediamo Mettiamo sempre lì, vado a guarda, così non ci perdiamo nessun nemico, niente Ma no, perché se no c'è Sì, è troppo difficile Ah, dici così, almeno giochiamo sempre tutti Sì, sì Allora metti Allora metti hard, vite infinite, però non energia che si ricarica Ok, sì Sì, no, esatto Metti tutto difficile, tranne le vite che sono infinite Sì, ok, fatto, fatto, dai Entrato Oppure aspettiamo Un po' che adesso ho una cosa dove non muori E che finisci tutte le vite Boh, insomma, vedete voi No dai, metto vite infinite, dai No, va bene Mettete ready O start, qual è? Poi al massimo Chi muore è di più O verrà preso la patata in faccia E vai No, io ho preso il paladino per sbaglio Vabbè dai Vuoi rifare? No dai Voglio cambiare un po' personaggio Ma io parli di usare fino alla fine del gioco E vabbè Sono rotto le palle di usare sempre lo stesso Però scusa, cioè Che palle Ma mi sembra strano che questo gioco non abbia la possibilità Cioè Praticamente se hai vite infinite diventa semplicissimo Perché alla fine muori quanto vuoi Però se sei limitato diventa impossibile Beh impossibile no, esageriamo Eh ma cazzo Diventa difficile Oh ma è un medium No, io no Sì, io uso il pad Ed Io sì, io anche uso il pad Lancia i coltelli lentissimi Ma quali coltelli? Le frecce Ah ecco Secondo me appunto Se vuoi giocarlo con le vite Lo giochi in normal Semplicemente Ho la rigenerazione dell'energia Chi? Come halo Lumenta halo Eh potremmo anche giocarlo con quello in realtà Nel senso che non è del tutto sbagliato Eh non ho idea Un sistema che comunque ci permetta di Effettivamente non trovarsi a metà partita in Tutti i morti E poi non sai Non sai se Ah ecco le vite quali sono Vedi che c'è scritto inf Sulla mappa? Ah no, sopra Ah inf Ah è vero Però Non sono convinto Neanche di giocare con le vite infinite Eh non lo so Bisogna vedere sempre quanto è lungo il gioco Se è troppo lungo Viene difficile Vabbè che possiamo poi caricare Sì ma carichi sempre senza vite E se no come dico io Non salvi Non salvi mai Quando stai andando male Così Eh però ma non ti caso che ti si blocca il pc E non l'hai salvato per due ore Questo è vero E boh Non so Adesso proviamo così Sì vediamo